Rieccoci qua, siamo tornati in diretta, secondo blocco di Pane al Pane, Vino al Vino e come ogni lunedì a quest'ora ci sono venuti a trovare i fratelli Antignani, Felice e Filiberto Buonasera a voi Buonasera a tutti Buonasera a voi, allora insomma è andata come è andata, il campionato è quasi finito i verdetti ormai sono quasi tutti emessi se non quello della retrocessione con il Crotone che arriverà proprio qua, domenica, a provare a fare punti vedremo che cosa succederà, però con voi ogni lunedì facciamo un passo indietro per così dire guardiamo la partita precedente, alle pagelle di Sampdoria-Napoli come è andata questa volta? La partita è andata bene, solo che ormai game over praticamente, Gianni purtroppo la speranza del 7-0, 7-0, anche quella c'è smanita sono smanita perché al terzo minuto l'ha segnato, però non si è capito quando abbiamo segnato ci hanno tolto un gol, non si è capito ancora perché non l'abbiamo detto infatti, tra parentesi un gol di Mertens regolare purtroppo il VAR, ahimè, ha un po' perso colpi in queste ultime giornate rivisto dagli arbitri, Silent Check, annullato un gol regolare a Driss Mertens non si è capito perché, però magari con quel gol vincevamo 10-0 tanto la Juve gioca sempre 11 contro 10, forse è una regola questo fatto che la Juve pure se vincevi 227-0 comunque non valeva niente, perché aveva pareggiato perché la Juve avrebbe pareggiato, però intanto in 11 contro 10 sempre forse è una regola, c'è una legge non scritta che la Juve deve giocare la lotta è entrata nel vivo, praticamente gioca sempre in 11 contro 10 ma perché non la facciamo già direttamente? Infatti io farei partite di Etta nel 11 contro 10 no, perché poi dopo la squadra avversaria si rende conto anche perché in Angolan è stato isposto e Gianni ha perso, ha pareggiato la partita ma è già, è ancora tutto però ci qualificano, quindi praticamente sì, sì, ma ho altre risorse c'è la panchina l'ombra, poi tu fai turn over, come mister sei bravo insomma sì, 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 non c'è problema, ci riproveremo ok, ok, vabbè, andiamo a noi, vediamo se vogliamo dire qualche voto vogliamo fare qualche considerazione tu volevi dire qualcosa mi sembra su questo personaggio lusco che si è visto dopo la partita ieri non so se l'hai notato non c'era, io stavo a Torino su Sky e su Premium è uscita una sola una sola che uno dovrebbe essere uno della criminalità organizzata torinese a Don Giorgio eh, a Don Giorgio una sola, ha cominciato a mangiare i anatemi a destra e sinistra che diceva buono, vado poco bene contro noi e noi abbiamo fatto una partita non si deve dire che noi non sappiamo vincere c'è la particissima mamma mia, veramente io non capisco grande stile insomma ma poi voglio dire, hai vinto uno scudetto pensa a godertelo cioè la prima cosa che ha fatto ha insultato praticamente tutti gli avversari in particolare Lorenzo che aveva fatto una battuta molto bella, ironica una battuta simpatica ma poi è basata sulla verità su un dato di fatto quindi non c'è nulla di cattivo in quello detto ma poi gli devi chiedere scusa per essere convocato in nazionale quando sarà nella no, sì secondo me qualche puntina sotto alle ruote della macchina gli hanno fatta la domanda gli hanno fatta la domanda poi ci sarà un chiarimento no, per me è già una bella ma non è la tua, cioè sono io diciamo che sono dei melli ma quanti sono gli scudetti? quanti sono gli scudetti? non lo so sono 34 perché sulla bottiglia di sfumante c'erano scritte 36? hanno sbagliato evidentemente ma scopo potevano comprare quello che compriamo noi di quella ditta che non diciamo per non fare pubblicità dove c'è scritto 257 ma a questo punto potete mettere cioè perché 36? mettetene 70, 80 appunto perché si danno solo questi due in più? io me ne darei cioè se proprio devi dire un numero a cacchio insomma le dattene 40, 50 qua così metti la quarta stella non lo so comunque vabbè metti 40 come le Champions che hai vinto no, 40 Champions e 40 stella eh, lo dici così perché tu non hai mai fatto una finale di Champions io noi, le filiali io sicuramente non hai mai fatto una finale di Champions io perché dici perché sto a parlare qua? no, perché parli della Champions? comunque ieri stavo a Torino Gianni per questioni lavorative ah, vabbè sì e devo dirti bellissimi festeggiamenti no qua non si poteva camminare per la strada c'è la gente in piazza Castello il delirio totale ma tu hai presente San Gregorio Armeno quando ci sta l'otto di dicembre per i pastori? e niente niente c'è praticamente i due giuventini appollaiati sui palazzi ma tu che ti aspetti a Torino vedi le feste se vince il Torino lo scudetto ma non sono i giuventini così eh hanno fatto vedere questi 25 giuventini con tre sciarpe e quattro bambini i giuventini stanno davanti a televisione davanti ai pc ma le stanno accendendo davanti ai telefonini a mandare i messaggi come al solito non sapete che vi siete persi altro che capodanno cinese qua vabbè ma ma perché voi tentate eh queste cose vizio mandolino invece loro festeggiano in modo misurato Chiellini praticamente prima ha detto questo fatto prima ha insultato Insigni e tutti i napoletani e poi dopo ha detto però ora testa all'anno prossimo cioè ha vinto lo scudetto rilato scusa ma devi andare prima a mora Chiellini che faccio da quattro che lì e mi indosco rilassati ripassati un po' ma riposate devi andare a fare il mondiale Chiellini Chiellini va a fare il mondiale con buffoni mondiale di tuffi bravo e mondiale di nulla con dibala e quadrato mondiale di nulla comunque vabbè diciamo così perché siamo stiamo rosicando c'è una verità perché noi veramente ci credevamo nel vero la delusione c'è ovviamente dobbiamo dirlo ma non dico che noi dobbiamo festeggiare pure l'acqua al gas cheat però festeggeremo il record di punti che conta poco ecco gli altri due che i veri botticelli li spariamo noi voi li avete sparati dopo di noi ma ora ci insegnano anche a sparare i botti ma tui dia e ben attia eh vabbè lasciamo stare posti in Marocco ma tui dia dove viene la Francia sparano sanno anche sparare oppure fanno come quello del film di Bella Vista che scoprano non si poteva comprare i botti a Capodanno li ha sparati poi vedrai domenica prossima però la piazza sarà piena perché compreranno sarà piena tutti compreranno tutti questi figuranti sabato finti giuventini che vanno là a far finta di essere di fuori avevo già sentito questa storia ma sicuro perché poi dovranno far ma poi abbiamo parlato di questo fatto della contemporaneità ma il amico andrà a festeggiare in piazza no quello è giornalista professionista deve fare la la trasmissione deve far finta di essere eh certo di essere insomma ieri grandi caroselli nei salotti nelle camerette nelle cucine nelle cantine era proprio un carosello le tifosi della Juve bene bene quindi a cerco schermi dei computer inondati di champagne Coca Cola e Fanta va bene non facciamo pubblicità sì assolutamente andiamo a dire parliamo del Napoli sì parliamo del Napoli diciamo due cose perché effettivamente questa cosa di Donasone vediamo ha lasciato il tempo che trovava tra l'altro noi abbiamo scelto scusami Felice di non assistere vedere rivedere quelle immagini proprio per una cosa di rispetto nei confronti dei tifosi del Napoli come dello scudetto della Juve no no le dichiarazioni no vabbè i tifosi del Napoli noi li vogliamo bene quindi non li possiamo sicuramente intossicare diciamo noi cerchiamo di fare un po' di ironia su cose che veramente non si può fare l'ironia perché l'ironia era quella di insignia se poi dopo ogni cosa che si dice ne devono fare una questione di militare praticamente sembra che non c'era molta ironia sono veramente insentibili però lasciamo Chiellini a Coppa e Maccaruna sotto no Chiellini a Coppa e a Canna sotto poi Chiellini si è rivelato effettivamente diciamo che non è bello a finire che ti ti denuncio un miliardo di euro prendere in giro chi perde facciamo un po' di fagelle della partita peraltro ieri bella partita cercavo un po' di voti strani ma non li oggi tutto quasi tutti sufficienti e con qualche eccellenza chiaramente il record devo dire la verità ieri mi sono un po' arrabbiato che vogliamo dire insegna si è capito che non era un problema fisico perché Napoli ha fatto una partita a Genoa a 90 minuti li abbiamo presi appallate loro avevano tutto da giocarsi e noi quasi niente insomma e se avessimo giocato forse così a Firenze un po' di un po' di diciamo era una buona Sampdoria di Bortolo di Bortolo diciamo che se Gianpaolo è questo allenatore io tutto questo spettacolo non l'ho visto il capitano della Sampdoria e Vasco Regigio tutti schiaffati dietro la linea della palla a cercare di poi con Gianpaolo che poi dopo il 2-0 l'ha preso anche con un risultato positivo ha detto fare 2-0 contro il Napoli è un successo ma è già qualche giornata che è così è comunque una bella partita abbiamo visto bene il Napoli di nuovo dopo un po' di tempo abbiamo visto un bel gioco abbiamo visto un paio di giocatori eccezionali come non so se vuoi che vada in ordine come preferisci prima che vada ti volevo dire una cosa a Gianni che quella di ieri era la prima giornata del campionato giusto? perché ho visto per la prima volta interrompere una partita dall'arbitro per i cori grazie era la prima giornata no ma è la prima volta che succede che giornata era ieri? era la penulta tresima la penulta trentasettesima cioè noi siamo arrivati alla penultima ma non ci sono mai stati finta quando il campionato era già non ci sono mai stati i cori contro i napoletani meglio tardi che mai però meglio tardi no penso che forse non ci sono mai stati erano degli sfottoni sì e forse erano diciamo che è stato è stato brutto anche vedere quello cioè come se all'improvviso si fossero resi conto che negli stati d'Italia fanno i cori contro i napoletani diciamo che sono arbitri l'anno prossimo dalla prima giornata specialmente in quegli stati là perché poi è facile assabiliare con la Sampdoria prendetela con tutti quanti e fare un po' di propaganda io li sento tutti quanti poi comunque cambiate sto coro perché Vesuvio lavali col fuoco cioè appicciali col fuoco perché lavali e l'acqua cioè capito? perché in questo modo fanno anche il fatto che il napoletano non si lava fanno la doppia battuta simpatica il napoletano non si lava eh il napoletano non si lava perché il napoletano non si lava non si sa perché il napoletano io faccio la doccia ma anche io però diciamo evidentemente tu no tu il pomeriggio io il pomeriggio e tu la mattina però vabbè questi giorni si lava sempre perché non ho capito dove sta scritto io sono diciamo sono cose che come direbbe qualcuno fanno male al calcio diciamo che sono anche quelle cose strane no? quando poi tutto è quadrato ma non è che fossero un po' come diceva quello ma non è che fossero un po' come riuso eh quando tutto è quadrato dove cominciamo a fare cioè tu c'hai il golfo il mare il sole Ischia Capri la gente piazza Castello che è pieno di tifosi che è così tutto piazza sembra parlare no parliamo del Nau che vogliamo dire allora passiamo mi interessavano le signe voglio le signe perché mi ha turbato il turbante allora guarda io vedo una sola insufficienza la facciamo dopo però partiamo dai voti più alti che a occhio mi sembra quello di il migliore in campo sicuramente ieri veramente una prestazione incredibile praticamente è vero che gli attaccanti della Sampadolio non erano dei fulmini di guerra ma sembrava quei cartoni animati quando Bip Bip arriva dal da qui il coyote e quello si ferma e si butta giù cioè arrivavano da Colibari e posavano il pallone qualcuno rimbalzava pure addosso poi a un certo punto Colibari non pago di questo ha cominciato anche a fare il testino l'esterno d'attacco andava a scattare cioè una prestazione impressionante scatenato scatenato però sulla faccia quello che è abituato a vedere Mario Ruge stavamo organizzando una colletta se vuoi partecipare Gianni è che se forse a 70 milioni ce lo dà De Laurenti ce lo compriamo e poi ce lo rivendiamo perché io penso che un giocatore del genere non ha prezzo non ha prezzo in questo momento purtroppo temo che in estate tu che poi sei uomo mercato giornalista mercato insomma penso che in estate ci saranno noi sappiamo due o tre notizie non le diciamo non le diciamo perché inizierà un nuovo modulo non lo sai inizierà un nuovo modulo sul finto da calciomercato sappiamo due o tre te le dico dopo anche se c'è una chicca che forse Colibari dovrebbe restare però io secondo me qualcuno verrà con 100 milioni e sarà difficile ma chi Colibari se tu stai diciamo preannunciando la cessione di Colibari non dice mai no stiamo dicendo il contrario non te lo auguri sappiamo che le voci che arrivano sembra che rimanga però io temo che un giocatore così forte in estate ci saranno grosse tentazioni davanti a 100 milioni potrebbe intendere queste tentazioni meno di 100 no meno di 100 no ce lo compriamo noi tu quando metti mettiamo 45 milioni mettiamo 10 mila euro io 10 mila euro tu e 99 milioni poi se Gianni si vuole comprare un calciatore a Mertens per fatti dei suoi si me la vorrei a Mertens e poi ce lo rivendi a Mertens un saluto sempre a Tommaso salutiamo Tommaso ma Cazziniere non è e poi sempre in tema di voti altissimi chiaramente il 7 e mezzo a Milik penso che questo da qui non si possa scappare ma era tanto difficile fare un tiro da fuoriare è entrato subito no è attirato scusa posso tirare perché in Mertens non si può tirare Insigne tirava però sempre quel centimetro fuori Calleone non sappiamo neanche più che cosa fa in mezzo al campo a un certo punto Zilischi voleva tirare poi ci ha pensato Zilischi tirava e il portiere se la voleva buttata sola ha detto Milik se fanno tirare a porta e ha segnato al primo tempo infatti l'hanno ammonito al primo tempo sembrava canella in porta infatti l'hanno ammonito a Milik perché non puoi tirare scusa ma che fai tiri voi già giocate paura dell'ammunizione non tiravano e non tiravano è stato ammonito quindi con il VAR perché non si può tirare perché se fai il 70% di lo stesso palo bravo perché pure Mertens aveva tirato e gliel'hanno annullato per il VAR interrompo al volo esatto linea alla regia a pochi e torniamo a parlare dei nostri azzurri ciao inserzionisti eccoci qua come promesso pochi secondi e torniamo con i fratelli antichi le nostre pagelle dove eravamo rimasti Milik al 7 e mezzo di Milik chi ha tirato ma perché non gioca mai Milik e questo bisogna ovviamente lo dico io al mister no te lo dico io perché se fa due tiri due ammonizioni è spulso quindi lo fa giocare 10 minuti no se ogni gol che segna viene ammonito giusto giochiamo in 10 tutte le partite Mertens perciò non tira più lo fa giocare di meno così segna al massimo un gol se no si fa una doppietta è arrivato in sede ma perché è stato ammonito perché ha fatto la linguaccia perché non si tira ah non si tira è arrivato in sede questo estratto del regolamento fatto no ma davvero però non si capisce l'articolo 27 bis che vale solo dalla campagna in giù per le squadre della campagna in giù che dice che se tiri poi viene ammonito specialmente se segni se stiri e segni viene ammonito vogliamo parlare di Galleon Gianni che veramente è venuto l'unico 5 ma è veramente non ce la fa più non è un giocatore riconoscibile che è venuto un di lui universale perché Sari l'ha tolto tu quando a Torino avevi detto il fatto di un'astro che 7 minuti 7 che poteva raccontare ai nipoti questo l'ha tolto questo l'ha tolto al 25 poi ha messo Hamzik a posto suo ed è stata la nostra tattica dicevamo giusta magari andava messo un po' prima perciò è venuto giù il diluvio è venuto il diluvio universale all'inizio della partita ho sentito un commentatore che diceva che quel campo così era favorevole al Napoli perché la palla è una squadra fisica no 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 non la classica il classico commento che il campo è una squadra fisica è pesante no diceva che siccome il Ferrari si è fatto in un modo da tanti anni con l'acqua ha scivolato più la palla e quindi favorisce la squadra che gioca in velocità non lo so diciamo che è la stessa televisione che c'è Massimo Mauro appunto che voto vogliamo esperare allora diciamo Reina ha preso il solito senza voto senza voto le partite che fa lui da Gita Dominicale però stava arrabbiadissimo ma non perché la penultima partita perché con la pioggia non si è accesa la fornacella le carcioffe non la potete fare ecco quella intenzione vabbè perché Albiolo l'aveva portato con la Tata Svetto con la portatile no Albiolo forse è andato è andato in area di rigore avversario a fare il centro avanti ha fatto il terzo gol albiolo del campionato 3 lui e 5 con i bari 8 gol però tu c'hai la difesa migliore ce l'hanno loro e l'attacco migliore ce l'hanno loro quindi di che cosa stai parlando ha fatto più punti difesa attacco più barra a favore più barra più centro più fuorigioco non visti più rigori a favore il campionato quello normale l'abbiamo diciamo che il primo campionato col VAR che giustamente vabbè chi vogliamo parlare insigne 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 6 e mezzo ci prova in tutti i modi il tiro a giro non voleva entrare però una cortesia allora quando vedi a Chiellini per cortesia non perdere tempo io non sono d'accordo a spiegargli quel fatto dell'abbattura l'ironia è una cosa che richiede per essere capito una grossa intelligenza quindi come si dice in questi casi a lavare la capa al Chiellini si perde l'acqua e anche il sapone voglio dire sì va bene hai ragione voglio dire una cosa ti insegna per me era 8 8 e sì perché tu non hai visto un fatto lui si è graffiato da solo in un'area di rigore a un certo punto si è fatto perché non ci piace i capelli come ce l'ha fatto la colpa è sua se Insigne se Insigne avesse avuto un'altra cicatrice di un mese prima magari un po' più grande la faceva vedere all'abito e pigliare lui è talmente autoironico che gli sono venuti i capelli in una chiavica del barbiere e pur di non farsi vedere da tutti i quali che potrebbe pure la divisa se mi fa se mi fa da solo per mettersi il turbante per appararsi infatti la tacconna della Sampadore se l'ha messo pure lui perché era meriuso il problema il problema è che il barbiere suo stava chiuso e doveva andare dal barbiere di Isai e si è fatto capelli in proponibili e questo è vero perché Insigne stava un po' a capelli in proponibili vogliamo dire qualcosa su Amsic 500 partite 500 partite con Napoli insomma grande traguardo superato Bruscolotti no che vi sto dicendo una sciocchezza Bruscolotti c'era 515 quasi quasi però insomma mancano 15 partite quindi diventerà il primo alla quattordicesima giornata no quattordicesima dipende poi forse la quattordicesima avremo già giocato a cosa dicembre dell'anno prossimo insomma intorno intorno a novembre dell'anno prossimo festeggerà il primo il primo il record di maglie assoluto sì a proposito forse abbiamo disegnato il suo centesimo goal che se riusciamo a beccare il capitano ce lo facciamo firmare lo metteremo in asta bene bene a che punto sono le aste a proposito abbiamo la maglia donata da mio figlio quella là firmata a Di Maro che sta a 220 euro bene quando finisce l'aste e finisce quando finisce il campionato ma quindi mi raccomando se il nostro minorario la franco vigorita non dice bugie dovrebbe arrivare un completino di reina l'ultimo una maglia di culibali e una maglia di ma un completino di che squadra del Napoli del Napoli del Napoli perché ora non si è capito bene l'ultimo quello di di domenica e poi dovrebbe arrivare la maglia di culibali e la maglia di di ancora tanto abbiamo un po' di un po' di asse da però mi raccomando partecipate insomma sempre con i sui soliti canali sia 17 su 24 che poi l'asta su e poi Gianni clamoroso non clamoroso non clamoroso dovrebbe uscire per il secondo anno consecutivo il nostro libro delle pagelle che l'anno scorso era un po' nell'anonimato ora dopo un anno di 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 trasmissione a grazie allo scudetto sul terzo tre sul campo no ce ne mettiamo sette sette quante ne vogliamo di scudetti noi tanto c'è l'anonimato al manacco dovrebbe essere la stella al manacco del decimo anno il decimo scudetto e così possiamo mettere la stella però la stella non mi piace più non c'è un'altra cosa la stella cometa che bella che bella la stella cometa abbiamo quindi detto anche di amsic chi ci manca ancora abbiamo questo rog vogliamo parlare un attimo di rog non l'hai messo neanche senza vota senza vergogna ma come fa rog mister io ti voglio bene lo sai però suo aglione che praticamente lo fai giocare ogni partita due minuti ma veramente non ti ha mai detto niente neanche negli spogliatori secondo te ma è troppo bravo noi siamo andati pure a casa poltura è un bravo ragazzo bravo cioè sta gente che per molto meno dice non voglio entrare tanti misi sono andati all'ottavo pure i unes vorrei che dovrebbe venire a Napoli che l'allenatore lo voleva fare in Italia gli ultimi 10 minuti quando era una squadra volandese no non entro invece rog se rog entra fatti questi 30 secondi lui bravo gli sei 30 secondi è veramente un bravo ragazzo voglio fare complimenti allora sb a rog qua non c'è ma lo faccio ora il voto 10 alla mamma di rog perché questo è proprio educato ma proprio anzi se era mamma di rog paziente potessi andare cortesemente a Torino a Binogo a da Chiellini che invece fate la scuola alla mamma di rog fate la scuola e spiegate a Chiellini un po' come ci si ci si comporta come direi un po' di creanza un po' di creanza come si suol dire li andiamo nominando non li andiamo più a nominando no però la cosa bella che mi fa arrabbiare a me non giuro che dico solo questo che quando vado a dire queste erate in televisione nessuno gli dice niente questi buffon quella cosa tutti quanti in delirio dallo studio bravo bravo cioè nessuno gli dice ma adesso stai dicendo ma non l'ho sentito non lo so se hanno detto bravo non credo signori qua c'è una situazione nella quale quello parlava di fruttini di sprite di patatine e nessuno c'ha il trend e vabbè i fruttini sono importanti nella vita il fruttino ha una tua importanza solo in Champions perché in campionato anche l'aspetto sensibilità in Champions sprite non si può dire vabbè ormai l'abbiamo detto vabbè ormai è andata ma sprite oramai l'ha sdoganata lui eh l'ha detto lui era con la collo sprite 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 fruttini e patatini al parco la panchina e questo e poi dopo noi si fa le finali e perché si giocano e perciò si perde e poi scivoli vogliamo dire una cosa importante seria sì cioè seria insomma lanciamo qualche il sasso nello stagno proprio perché dicevi tu questa idea di fare questa cosa sul calciomercato e vi dicevo vogliamo mettere un po' di pepe questo e mettiamo un po' di pepe questo appuntamento di giovedì tra Sarri e De Laurentiis magari poi così lo lanciamo nella prossima nel prossimo step della trasmissione nella prossima mezz'ora sicuramente prenderai qualche telefonata se i tifosi questi nomi che stanno sentendo Ancelotti Conte se gli piacerebbero più di di Sarri se vogliono Sarri perché lo amano insomma tu che pensi tu che pensi io penso che tu che sei stato filo sarriano però ultimamente è un pochettino io penso che è tutta colpa delle televisioni nel senso? le televisioni e l'albergo ah le televisioni eh bravo ma ho pensato le televisioni no le televisioni togliamo le televisioni secondo me secondo me non è questione di claus né degli 8 milioni né di 500 mila euro né o celsi né gli stimoli il progetto secondo me Sarri se tu dici al presidente andiamo nei due stelle nei tre stelle senza televisione wifi la pensione la pensioncina così poi il presidente è pure contente così dispare prendete una casa su ambie no non si dice una casa una casarella così fanno pure cioè la spaghettata sopra il tavolo uè 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 come si dice si può fare io non so se si mettono d'accordo strategia secondo me se si devono mettere d'accordo se devono mettere d'accordo seriamente intimamente devono essere convinti tutti però è vero anche che secondo me lo dicevo prima a Carlo non è che tutti vengono qua crescono si riabilitano diventano grandi e poi dopo tre anni come se scadesse perché tutti quanti dicono perché il presidente non riesce a tenere se vincono non riesce a tenere un allenatore più di tre anni ma perché qual allenatore sta da tre anni in una squadra cioè nel Napoli degli allenatori è raro Ferguson hanno vita lunghissima gli allenatori del Napoli Benger Ferguson ma nemmeno perché poi poi non è detto che è finito il ciclo ma vediamo che succede assolutamente noi abbiamo lanciato la televisione è colpa delle televisioni negli alberi però se togliete la televisione secondo me Sarri resta o no sicuramente magari gli dà qualche garanzia Sarri se resta però anche lui deve diventare un po' meno integralista l'ho dimostrato ieri con Caglion con Milik Devere è vero anche che quando una società fa degli investimenti devono essere valorizzati perché altrimenti non riesci a stabilire nemmeno se sono buoni o no non sono buoni Milik secondo me è buono l'anno prossimo penso che sarà l'ennesimo colpo di Devere e ha detto la mi dispiace che non l'avevo Milik quando ce l'avevi non l'hai fatto giocare e del resto Dele che ha fatto Quagliarella step successivo Camani step successivo Higuain step successivo Mertens e ora Milik deve ai mondiali ha saltato Gabbiatini però Gabbiatini ogni tanto si sa Gabbiatini ha fatto una plusvalenza di 15 milioni di euro esatto si è anche salvato con il suo Southampton d'accordo quindi scommettete su Milik capovannarie del mondiale ah del mondiale speriamo bene secondo arriva Iunes perché posso 5 gol di Iunes lo dico ora 5 gol di Iunes non sarebbe male anche che poi i tifosi di Napoli si dovranno scegliere una squadra per cui di fare non credo l'Argentina perché per come sono messi assolutamente no penso più il Belgio e la Polonia la Polonia e il Belgio non è più la Polonia perché Mertens chissà magari è un altro che ha la clausola io ti farei Polonia giusto? Mertens un mese si è riposato quando dicevi di no io ti ho detto che Mertens un mese si è riposato ad aprile io faccio come Filiberto faccio il saluto a volo a Mino che è il grande estimatore di Milik quello che ha detto Milik diventerà un fenomeno Mino Raiola Mino non Raiola Mino quasi Raiola per cui onore a Mino che ha visto un grande giocatore tu poi ci guazzi da allenatore di Milik Pierino ciao Pierino ho visto adesso ciao confermo confermo d'accordo grazie Felice grazie Filiberto Antignani ci vediamo per l'ultima pagella l'ultima pagellata insieme dopo Napoli e Crotone noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e torniamo in diretta tra poco sempre su TV Luna buonasera buonasera grazie a tutti